Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Allora, sinceramente ho deciso di fare questo video che non sarà certamente ovviamente un video tutorial in quanto, come sapete, io sono già avanti come uscite rispetto a questa che è uscita il 17 agosto in edicola. Ora, avendo sottoscritto l'abbonamento oltre un mese e mezzo fa, ho qualche numero, diciamo, in più di questo. Lo potete ovviamente trovare sul mio canale, mi rivolgo in questo caso alle persone che mi vedono per la prima volta. Questo è un video che ho voluto fare perché ho avuto qualche, come posso dirvi, qualche... Non mi viene il termine, ma cavolo. Non un'idea, ma un pensiero in merito, innanzitutto, al fatto che secondo me ci verrà data un'altra testa da montare durante la sessione, le varie sessioni di montaggio. E poi vi spiegherò perché ho pensato questo. Poi ho deciso di fare questo nuovo video per esortare le persone che sono ancora incerte sull'acquisto di questa collezione a farla. Fatela ragazzi, fatela davvero, perché non c'è niente di così bello oggi oggi è di così maestoso, sia come bellezza che come dimensioni in commercio. Andate a vedere i video tutorial giapponesi. Se non sbaglio hanno superato o sono quasi all'uscita numero 80. Sapete che sono 100, poi magari, come sempre accade, qualche cosa in più ci metteranno. Io sono sicuro anche di questo. Non si fermerà alla numero 100, ma ci sarà qualche uscita in più. E devo dire benvenga, perché è veramente qualcosa di bellissimo questo robot. Anche perché, come vi ho appena detto, ho potuto, oltre che montare i primi numeri e rendermene subito conto, anche guardare i video tutorial giapponesi. Allora, cosa dirvi? Non lo aprirò neanche, ma vi voglio far vedere. Non me ne vogliate voi iscritti, se ripeto, in parte, ripeto, questo video, perché ci tengo veramente a far capire alle persone che ancora si chiedono se farla o meno. Ovviamente, ragazzi, se si ha la possibilità, diversamente, non si fa il mazinga. Non importa, non importa. Però ecco, se si ha la possibilità, non pensateci più. Correte in edicola, sempre che riusciate ancora a trovare questo primo numero, ma penso di sì. E adesso mi rivolgo, oltre che a voi, che ancora dovete decidere se farlo o meno, anche a voi altri che invece, come me, l'avete fatta e avete deciso di farla. Acquistate almeno due o tre numeri. Costa un euro e novantanove. Guardate. Avrete i led. Dovesse mai bruciarsene uno. Cosa volete che sia un euro e novantanove? Dove andate a prenderli questi, poi? Se non siete elettricisti, non siete in grado di poterveli rifare. Qui avete tutto. Avete una mascherina. Certo, non è che andremo a rovinarla, ma intanto è un gadget in più. E costa un euro e novantanove. Io ho preso tre uscite. Così come prenderò anche tre uscite dell'uscita numero due. E vedremo. Però, perché, secondo me, all'inizio vi ho detto che faremmo un'altra testa? Potrebbe anche essere che mi sbaglio. Tanto non stiamo scommettendo nulla. Secondo me faremo un'altra testa, perché, guardate. Questo è quello che abbiamo montato. Ecco qui. Qui abbiamo i fili elettrici che, ovviamente, portano tre luci a un occhio e tre luci all'altro occhio. Dove una luce, quella singola, nel momento in cui faremo l'accensione, ci dirà che funziona tutto e poi ci sarà invece l'altra che sarà più forte. Poi abbiamo anche i raggi congelanti, le antenne che si illuminano di blu. Però è qua che volevo arrivare. Secondo me, allora io ho risolto la mascherina, vi ho fatto vedere come fare. Se volete andate a vedere anche voi. Secondo me, allora qui posso dirvi con certezza che questa griglia chiusa non dà alcuna possibilità, ma su questo posso scommetterci, è un fatto proprio di ragionamento logico, non dà alcuna possibilità al vapore, una volta che viene nebulizzato qui, di poter uscire. Perché questa mascherina sicuramente ci verrà fornita, non così unita, ma tagliata, dove in trasparenza si vedrà il pezzo sotto. Ve lo garantisco io, sarà così. Quindi questa andremo a cambiarla. Però, quello che più mi ha fatto pensare è che quando noi andiamo a sfilare questa punta qua, l'antenna, ecco qui, queste sono quelle in plastica, queste sono quelle in metallo, e andiamo a mettere questa, non entra fino in fondo, entra solo fino a un certo punto. In più, in più, quando andremo a mettere l'altra mascherina che ci è stata fornita, adesso ve la faccio vedere, se riesco, eccola qui, questa fa filtrare veramente poco la luce, quindi non avrebbe ragione d'esserci il LED, o meglio, i LED, così come non ci sarebbe ragione d'essere per quanto riguarda i LED, qui, e il tuono spaziale, cosa ho detto prima, raggi congelanti anche, giusto? Sì, 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 ragazzi, abbiate pazienza, ma tra Robocop e Ironman, oggi è l'ottavo video che sto preparando, ne ho ancora uno sulla 500 da fare, sono andato un po' in tilt, quindi abbiate pazienza. Comunque, vi stavo dicendo che secondo me daranno un'altra testa, se mi sbaglio, pace, dove non ci sarà alcun impianto elettrico, non ci sarà necessità di questo, e useremo questa mascherina lì, e metteremo la mascherina, con questo, che lavora molto meno la trasparenza di questa, si vede subito, nell'altra mascherina. Quindi, io penso che avremo un'altra testa, che sarà sostituibile facilmente con questa, quindi quando uno vorrà mettere il suo Mazinga Z esposto senza usare il telecomando, perché non vuole tenere le batterie dentro, gli basta sapere che funziona tutto, ecco, dice, perché devo tenermi l'Iron Man così, scusatemi, vedete che... l'Iron Man così, il Mazinga così, me lo metto con la mascherina chiusa davanti, e con questo, che è più simile a quello vero, corrisponde di più alle anime, per come colore. questo ovviamente è stato fatto più chiaro, perché diversamente, come ho detto prima, i led non potrebbero lavorare a trasparenza, o meglio, questo non potrebbe lavorare a trasparenza con i led sotto. Vedete, a me la mascherina sta perfettamente inserita, perché ho fatto quella modifica, andate a vedere il video, comunque, ho semplicemente allargato appena appena questa, e funziona benissimo. Invece, cambiando discorso, e parlando della mascherina, per un attimo ho pensato che qui si potesse poi in seguito mettere in questo taglio che avete qua, vedete? Ma queste sono ipotesi, eh? Che si potesse mettere qua all'interno, in questo scasso, una calamita, che ci viene poi fornita magari da loro, e che chiaramente, essendo questi in metallo, tiene bloccata la mascherina. Ecco, non fatemi leggere cose del tipo incollo la mascherina, ma per carità ragazzi, ma non scherziamo, incollate quello che vi viene detto di incollare, non andate a incollare la mascherina, non facciamo stupidaggini, anche se il modello è vostro, non facciamo stupidaggini. Allora, quindi, ricapitolando, sicuramente se non ci viene data un'altra testa, ci viene data un'altra mascherina, tutta forata, perché questa non serve assolutamente a nulla, per questo motivo, che vi ho detto prima, non sarebbe in grado di uscire alcun vapore nebulizzato, che poi non è neanche un vapore, ma è una specie di nebbia, e basta. Quindi, anche a voi, che avete fatto la collezione come me, non vi fate scappare la prima uscita, e la seconda uscita, ne dico la correte a prenderla, perché vi possono servire, qualora si dovessero poi danneggiare, può succedere, è difficile, ma può succedere, si dovessero danneggiare i led, avete il ricambio, insomma, una spesa di 2 euro, si può fare, secondo me, io, come vi ho detto, ne ho prese 3, non dico che dobbiate fare la stessa cosa anche voi, però ecco, alla fine sapete che 3 sono, mancano 3 centesimi a 6 euro, e comunque ho una mascherina in più, il cacciavite non mi serve, perché con tutte le collezioni che ho fatto posso vendere i cacciaviti tra un po', e basta, tutto qui, quindi, vi consiglio anche di prendere la seconda uscita, e poi, anche perché, non lo so se ci avete fatto caso, quando c'è la presentazione, mi sembra che ci siano due overpilder, uno ovviamente, qui è uno sulla piattaforma, che ci diano due overpilder, ma questo non voglio dirlo, però secondo me, ripeto, la mascherina sappiamo che ce la danno, gli occhi, e questa sicuramente viene cambiata, così non può andare, ci va quella forata che si vede a trasparenza, questo, si vede tutto, che altro posso dirvi? Ah, ci verrà ovviamente dato il kojikabuto, anche quello in piedi, questo ovviamente è quello che sarà seduto nell'overpilder, io non credo che nessuno possa commentare alla fine, ma anche da subito, che questa è una collezione dove il prezzo è esagerato, stiamo parlando certo di oltre 1200 euro alla fine, ma non c'è nulla, nulla di così bello, strutturato, acciaio, metallo, plastica, gomma, telecomando per controllarlo, bellissimo, qui poi abbiamo il serbatoio dell'acqua con il tappo, vi ricordate, qui con la siringa metteremo dell'acqua dentro, e potremo usare diverse volte, così per divertirci un po' all'inizio, tutto quello che è questo fumo, questa nebbia che esce fuori dalla bocca, il ciclone, però attenzione, ecco, vi sembrerà una sciocchezza, però io vi consiglio di usare non l'acqua del rubinetto, e vi spiego il perché, è importante questo, siccome questa lavora a ultrasuoni, quindi fa dei movimenti velocissimi, migliaia e migliaia di movimenti, ogni pochi secondi, per appunto generare quelle microbolle, microbolle che poi vengono spinte fuori, non mettete l'acqua del rubinetto, perché se avete un'acqua più calcarea di altre, comunque c'è il calcare, e se poi si secca la membrana, secondo me non funziona più, quindi quello che io vi consiglio, una cosa molto importante, usate l'acqua distillata, ovviamente l'acqua distillata, molti non lo sanno, ve lo dico io, demineralizzata anche, quindi non contiene minerali all'interno, ferrosi, che possano appunto anche generare rugini, o cose di questo genere, mi raccomando, ma soprattutto minerali, mi raccomando, inseritela con una siringa, non prendete un contenitore di metallo, perché nel momento in cui voi andate a prendere dell'acqua distillata, e la mettete in un contenitore di metallo, è come mettere praticamente, non dico l'acqua del rubinetto, ma insomma non è una cosa da fare, usate una siringa che è comodissima, una siringa da 5 cc o da 2 cc, ma da 5 cc anche va benissimo, levate il tappo, e semplicemente la riempite di acqua, così siete sicuri che non succederà nulla, e poi buono, quando non lo usate, che lo scaricate, lasciate, levate il tappo dentro, quando saprete di metterlo in vetrina, non usarlo più, non lasciate l'acqua dentro, altrimenti lo rovinate, ve lo dico, che con gli anni, a parte che l'acqua stagna, soprattutto se mettete l'acqua del rubinetto, perché è organico dentro, per cui è chiaro, che poi va in potrefazione, tutto quello che muore, batteri e così vari, per cui levate il tappo di protezione, e lo lasciate così per diversi giorni, dopo averla scaricata tutta, e buono, vedete, questo non è un video tutorial, perché il video tutorial l'ho già fatto, però ecco, mi sentivo di darvi queste mie, non idee, è una mia, un mio pensiero, secondo me, ecco, cribio non mi viene il termine, ma pensa a te, è l'età che avanza, c'è poco da fare, mi incespico nelle parole, dislessico, mi dimentico i termini, demenza senile, siamo a posto, ecco, chiamo Mazinga Z, Ironman, quindi, sono la foto che ha frutta ragazzi, bene, che altro vi posso dire? Per chi mi vede per la prima volta, tutto quello che non vi ho spiegato, inerente al fatto, delle uscite, di come si può avere, del prezzo finale, di quanto costa l'uscita, di quante ne consegneranno, dei numeri previsti, potete tutto trovare, sui video tutorial, che ho fatto, questo è stato soltanto, un video, ripeto, per esortare, gli indecisi, a fare questa collezione, perché non ve ne potrete mai pentire, è bellissima, è veramente bella, fatta bene, ecco qua, poi, seguitemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così da rimanere sempre, aggiornati su ogni mio, nuovo video pubblicato, mi raccomando, se avete piacere, condividete anche, nei gruppi dedicati, i miei video, per chi non mi conosce, ve lo dico adesso, Michele, non si occupa, del solo montaggio, ma, dà, aiuto, alle persone, che hanno più difficoltà, per inesperienza, al montaggio, dei modellini, per evitare, appunto, che possiate fare danni, ed avere anche, la certezza, che tutto venga, montato, correttamente, questo è quello, che ci è stato dato, per, accertarci, che tutte, e tutti i led, che metteremo, durante le varie sessioni, di montaggio, funzionino, cosicché, non ci dovremmo, accorgere, poi, di una mala sorpresa, più avanti, e dover riaprire tutto, non ho, ecco qui, mi raccomando, andate a comprarlo, e soprattutto, anche voi, ragazzi, così come me, io l'ho già fatto, ve l'ho detto, andate ad acquistare, altri numeri, perché vi conviene, vi conviene farlo, perché sono cose, che vi possono servire, bene, cosa posso dirvi, non so, se ve l'ho detto, guardate come sono messo bene, con la memoria, va bene, dai, allora, è l'ottavo video, che faccio oggi, poi li caricherò, vedrete, e adesso, mi rimane da fare questo, la nuova uscita, della 500 Ascetti, in scala 1 a 7, e sarà il video numero 9, sono un po' stanco, e non mi ricordo, se ho detto delle cose, perché tante le ripeto, anche in altri video, e quindi, ecco, corro il rischio, di ripetervela, una seconda volta, vi chiedo scusa, prima, se ciò è stato già detto, se qualcuno di voi, ha piacere, di farsi montare, da me, un modello, di contatti in privato, eh, così ci parliamo, bene, penso di avervi detto tutto, sul mio, sulla descrizione, troverete anche, un link, che si chiama Patreon, dove se vorrete, potrete, partecipare, a mantenere vivo, il mio canale, con una donazione, avete anche la scritta, grazie sotto i video, anche quella, è un'altra possibilità, di donare, se invece, eh, deciderete, di non fare, né una, né l'altra, io vi ringrazio, se quando guardate i video, e vi compare, la scritta, in basso a destra, salta annuncio, ecco, voi, non la schiacciaste, ma continuaste a vedere, i video pubblicitari, perché, almeno, qualche briciola, mi entra, se è così, è vero, che vi do una mano di aiuto, e io di questo, vi ringrazio, ragazzi, cercate di aiutarmi, anche voi, eh, un abbraccio a voi, un saluto, a tutti i vostri più cari, arrivederci al prossimo video, e mi raccomando, per quelli che hanno poca memoria, un po' come me, non dimenticatevi, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, e date anche un'occhiata, alla playlist, dove potrete trovare, altri modelli, che magari, potreste scoprire interessanti, ciao a tutti ragazzi, grazie, grazie, Grazie a tutti.